Dal 1 gennaio 2014 circa 15.000 stomizzati campani in virtù degli esiti della gara indetta dalla Soresa hanno visto drasticamente cambiate le loro abitudini e compromesse le proprie esigenze. Il paziente stomizzato infatti è colui il quale ha subito un intervento chirurgico o per una neoplasia o a causa di un evento traumatico a seguito del quale si vede costretto all'applicazione di sacche per il normale deflusso delle feci una condizione che si trova a vivere vita natural durante oppure per un lungo decorso post-operatorio. Negli anni precedenti il paziente stomizzato poteva ritirare comodamente nella farmacia sotto casa le sacche da lui individuate oppure riceverle a domicilio secondo il principio della libera scelta sancito tra l'altro da una legge regionale del 2006. Come spiega Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli E' la conseguenza di un paradosso in quanto la Soresa, l'ente regionale per gli acquisti su disposizione della regione anziché bandire una gara che avrebbe potuto continuare a garantire nell'ottica del risparmio anche una buona qualità di forniture ai pazienti stomizzati si è inventata un accordo di programma, una sorta di accreditamento delle ditte che nei fatti realizza un risparmio ma nella pratica quotidiana non fa altro che realizzare un gravissimo disagio ai pazienti stomizzati. Per uno stomizzato le sacche e le placche sono da considerarsi dei veri e propri presidi salvavita. La cosa importante che è nata in questi ultimi periodi è il fatto che non si ha più la possibilità della libera scelta. Cosa vuol dire? Che lo stomizzato, l'incontinente, ha l'opportunità rispetto al suo addome, alla sua formazione corporea di scegliere un presidio che più si adatta. Mentre adesso la Soresa e la Regione Campania impone un presidio che non diciamo che non è buono ma sicuramente fa nascere dei problemi.